Se amate il cinema e più nello specifico il cinema italiano, allora probabilmente in sala sareste andati ugualmente, perché Marco Bellocchio resta uno dei registri di Casa Nostra più ispirati e perché in questo caso ha ripreso un materiale sul quale intendeva già lavorare in passato anche Steven Spielberg. Se però siete residenti nel comprensorio Liopò, ecco che avete un motivo in più per andare al cinema, perché, rapito, questo il titolo dell'ultima opera di Bellocchio dopo che l'iniziale primo titolo era La Conversione, è stato girato anche a Rocca Bianca, provincia di Parma, subito dopo il ponte di San Daniele Po e a Sabioneta, che nella finzione cinematografica è divenuta una piccola Bologna di metà ottocento. Avevamo seguito un'estate fa le riprese assolutamente blindate durante i ciac, ma dove è stato possibile comunque fissare per sempre le scenografie e ora sappiamo che c'è una data d'uscita del film previsto in Italia per il prossimo 25 maggio. L'Italia sarà il primo paese europeo con l'accordo con la 01 Distribution a mandare in sala il film, dopo l'anteprima che si lega al 76esimo Festival del Cinema di Cannes al via dal 16 maggio e al quale, rapito, partecipa assieme ad altri due film italiani, quello di Nanni Moretti e di Albaro Orvacher. Manca poco, insomma, per rivivere una storia inquietante e decisamente poco sana, quella del bimbo ebreo Edgardo Mortara, rapito nel 1858 dalla sua famiglia bolognese e portato in Vaticano all'età di soli sette anni per volere delle Papa Pio IX. Così verrà educato alla fede cattolica nella Roma Pontificia con la lotta dei genitori per ritrovarlo e rivederlo, aiutati in questo dall'opinione pubblica in quel periodo insofferente verso il potere temporale della Chiesa. Materiale al quale aveva lavorato inizialmente come detto anche Spielberg una quindicina di anni fa, salvo poi abbandonare il progetto, che ora vede la luce con bell'occhio portando in sala squarci di casa nostra.